hey buongiornissimo oggi costruiamo la bucatti di lego sono 4.000 pezzi l'ho smontato nel lockdown perché mi annoiavo e ora ho deciso di ricostruirla perché c'è il nuovo lockdown e perché mi annoio facciamo un timelapse e poi ogni tanto vi faccio vedere le parti più interessanti avendo la smontata non ho i sacchetti numerati i pezzi sono tutti qui quindi adesso dovrò metterli un po sul tavolo è un po a caso sarà un casino proviamoci allora qua abbiamo due libri da tipo uno 297 e l'altro 500 pagine con istruzioni quindi adesso vi faccio vedere il primo passo questo è un po di foto di come è stato sviluppato degli ingegneri stessimo iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale Cambio 8, rapporto, sequenziale, come potete vedere Poi abbiamo la sole posteriore con il differenziale che va al cambio Ora dobbiamo costruire quello che è il motore che va qua in mezzo, centrale, posteriore, V16 Tanta roba Tanta roba Tanta roba Tanta roba Tanta roba Tanta roba per il cambio, l'anteriore 4x4, sospensione, mischi del freno e le pinze, poi dietro c'è per le pinze, poi questa parte si connetterà a questa contraffaccia del matrimonio, però la prima versione è questa, procediamo, via. Grazie a tutti. 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 E se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!